Dilli din, dilli don, Donny van de beck all'Inter! Un sondaggio? Un'occasione? Un'opportunità? Pura follia? Ne parliamo ragazzi belli, ma fatto sta che io voglio aggrapparmi a questa news con tutte le mie forze perché per questo giocatore stra-vedo Donny van de beck, Donny van de beck! Allora, ne parliamo e come se ne parliamo perché la notizia rimbalza su tanti siti devo ammetterlo più incentrati sulla tematica nerazzurra quindi magari filointeristi questo sì, però se ne parla, però se ne discute e allora facciamolo anche su questo canale prima ragazzi vi ricordo che il secondo canale, o meglio il canale parallelo al primo perché praticamente come già dico è un'estensione, sta andando sempre più forte siamo arrivati oltre 7500, dai andiamo verso gli 8000 iscritti il link è in descrizione, ricordo che ogni sera dalle 23 si va in line sempre e comunque, sempre e comunque, quanti cazzo vanno, ripeto la stessa cosa con ospiti, con ospiti diversi, quindi ogni sera delle novità, ogni sera delle varietà e ogni sera dovete essere presenti, ma ogni sera presenti no, però quando vi va perché no link in descrizione, ve lo butto là, ve lo butto là nell'info box Donny van de beck, pare sia innanzitutto una scelta di ausilio l'ausilio, ha sempre stravisto per il giocatore, sta provando a sondaggiare sapete quando va andate su Instagram e create il sondaggio, no, lui non fa una cosa del genere su Instagram, ma ha già chiesto, si sta informando sulla possibilità di un prestito secco pare al momento difficile, ragazzi non neghiamolo questa ipotesi ma d'altronde non ce ne stanno soldi, cioè a gennaio non se ne muoveranno di palazzi ecco, ragion per cui, come ha fatto il Milan e proprio stamane parlavamo di metter o si prova a strappare il giocatore con un prestito, anche secco, oneroso, ma comunque prestito oppure davvero si fa dura e, diciamolo, van de beck al Manchester sta stentando non trova l'alchimia giusta lì nel centrocampo dei Red Devils comandati da Soskier potrebbe essere l'ennesima trattativa sull'asse Milano-Manchester quindi il rapporto tra le due società è ottimo idilliaco, direi, quindi si prova, si testa c'è anche, e si parla di un'ipotesi di scambio, no? sempre sulla base di prestiti secchi tra Ericsson e van de beck, no? e magari con il diritto di riscatto poi da concordare in un secondo momento se ne dico un tante, se ne dico un troppo forse però queste sono le trattative che ad oggi puoi buttare giù sempre, ripeto, imbastirle su un prestito e non neghiamo, ragazzi, van de beck anche per lui sarebbe un'opportunità perché se viene all'Inter giochi, credo, eh, credo poi con Conte nulla è certo, nulla è sicuro ma stiamo parlando di un giocatore che sa offrire sia qualità che quantità un giocatore che poi ha anche discrete leve non è un gigante però, 1,84 un giocatore che sa fare anche sa fare bene anche la fase difensiva ma dà il meglio di sé con la palla tra i piedi i giocatori che sanno trattare la palla per me sono manna dal cielo e quindi quando si parla di queste possibilità sono sempre contento può fare la mezzala, può fare il mediano quindi anche il play basso potrebbe essere un'alternativa a Brozio non stiamo qui a discutere sulla possibilità che possa inserirsi in realtà ribadiamo, c'è un sontaggio c'è proprio una volontà da parte dell'Inter ma soprattutto di ausilio di vedere se c'è qualche spiraglio se c'è qualche possibilità e se arrivano aperture da parte dell'entourage del giocatore ma soprattutto del Manchester si può lavorare si può lavorare anche in questo senso vediamo, vediamo se ne dicono tante, se ne dicono troppe oggi tante news si parla anche del Papu praticamente anche lo stesso scambio sarebbe stato proposto anche all'Atalanta prestito secco noi vediamo Ericsson voi ci date il Papu poi a giugno, a luglio risettiamo tutto il Papu sembrerebbe anche valutare un'ipotesi l'ipotesi Capitolina perché la Roma pare si sia fatta avanti e ce ne stanno tante ce ne stanno tante quindi ragazzi come dico sempre dall'oggi a domani può succedere di tutto non prendete ogni notizia ribadisco ancora una volta ancora una volta ci tengo tantissimo ogni notizia con le pinze ma veramente con le pinze e ribadisco ancora una volta si può parlare solo e sempre di prestiti difficile veramente muovere soldi a gennaio soprattutto anche con la situazione societaria che c'è in casa in casa Inter quindi come dico sempre con le pinze però un minimo un minimo e lo dico anche a me stesso lo dico anche a me stesso un minimo sognare anche stare lì a vagare con la testa un minimo quello ci deve essere sempre un minimo di speranza per il tifoso per un ottimo acquisto quello ci deve essere nessuno può portarcelo via detto questo fatemi sapere cosa ne pensate voi di Tony van de Bec che ragazzi ha una tecnica ragazzi mamma mia lo so che magari è giovane 23 anni potrebbe anche io parlo già come se magari potrebbe faticare ma quel è un giocatore ragazzi terribile faceva parte dei ragazzini terribili dell'Aex terribili in senso buono che tecnica questo speriamo vediamo vediamo l'occhio l'Inter ce l'ha buttato vediamo un po' che succede come dico sempre va bene un grande abbraccio Taneschio ciao ciao Grazie a tutti.